Il teatro di guerra in Medio Oriente ed Ucraina, questi due conflitti stanno contribuendo a generare una polarizzazione all'interno delle nostre società incrementando il rischio che alcuni soggetti aderiscono ad ideologie violente ed estremistiche arrivando a commettere atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati e dobbiamo affinare le capacità di prevenire e riprendere e rispondere efficacemente a queste minacce. Grazie